Anche oggi grande spettacolo allo stadio d'atletica, tantissime sì, le presenze sono più di mille atleti e quindi più tutti gli accompagnatori, quindi effettivamente una grande partecipazione. Questa è una gara nazionale, quindi ci sono presenze da tutta Italia e questo è un vanto anche per Arezzo. Grandi prove, i nostri atleti chiaramente ci sono di tutte le età, quindi qui la competizione è nella fascia di un quinquennio e quindi grandi risultati. Negli M35 ci sono atleti di notevole livello, quindi lo spettacolo c'è stato e quindi ora stiamo aspettando la conclusione dei 10.000 femminili, che è una gara con molta competizione, anche se il caldo effettivamente non aiuta. Il comando Ravelli mi sembra che stia conducendo la prova su Chiara Giacchi, poi ancora vediamo in terza, ecco in seconda posizione, anzi prima posizione abbiamo Tappata Denise. Tappata che va a vincere e comunque un grande applauso anche per Giacchi Sara che ha cercato di condurre la gara fin dalle prime battute. A Arezzo c'ero già stata due anni fa a fare il meeting, il M35 avevo fatto, è bella, è bella organizzata. Oramai queste manifestazioni siamo anche direi rodati, siamo capaci ad organizzarle, quindi ci si augura che il prossimo anno ad Arezzo ci siano manifestazioni di livello superiore. Speriamo di arrivare a gare di caratura europea almeno e quindi niente, buon divertimento a tutti con questo spettacolo, con questa giornata meravigliosa.